La porta fantasma cazzo Ma che ti stai a fare i pippe? Vieni a vedere Ma tu mi vedi? Oddio che schifo Oddio Oddio mi è quasi esploso addosso Adesso Un'epoca 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 Stai attento sopra che si mettono sulla balaustra la odio ecco ci provo e non ti piano porta troia clip e pronto che ci sparano tutti ecco ci è arrivato un colpo madre di dio madre di dio per forza io non posso fare niente guarda la mia vita guarda dove è andato sei un coglione ma che vuol dire questo ti sei fatto danno ma che ragazzo ma cacciate dei balli tutti dei balli tutti non è stato saggio guardate sono fermati tutti uno ho preso l'altro sto bastardo di gioco so pusha lo forza seggetti prego i know you want you want me i know you want me i know you want me hey na 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 no no ma che risalta what 3. l'ATTaggiante ci sarà al lutto tiro al sotto E' bene va beh Va beh A C I T A C U C A E G A E U C E A Dammi sto cazzo di drop Oh mi ha ascoltato Ma power Ma non sono salito Io ti vedevo sopra Lesbia 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 Ne viste due Scusa stavo guardando con l'otto per Cosa stavo guardando con l'otto per Andiamo guarda dove sta Oh no 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 Che guardava Che guardava andiamo andiamo What No ma prenderà No 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 Ma che è successo? Questo qual è l'ultima arma che lo è visto in un terreno più che lo è stato in un terreno? Puoi stasciare Sono 70 metri dietro Dov'è? Aspetta L'ho noccato, si cazzo L'ho ucciso L'altro è in cima proprio alla collina Ne sta arrivando un altro A piedi Lo vedo Noccato, c'è il compare A destra è Preso, bella goal Fatti quello a destra prima C'è il pompa uno Oh mio Dio Cosa cazzo hai vinto Io me ne vado Io me ne vado Prendetelo in un cazzo di Pro Team Attualmente Vai a dormire che è tardi Patacchini Devi andare tu a dormire stronzo 3 e 5 da dare Ora vediamo quando le diamo Eccolo qua Congratulazioni Oggi sei stato selezionato Per ricevere un iPhone 7 Una Playstation 4 O un Samsung Galaxy S6 Gratuiti Clicca su ok Per ricevere il premio Prima che venga assegnato A qualcun altro Sai che devo cliccarlo Play raga Sai che lo devo cliccare Play qua Cioè Davvero raga And then the WOOOOO WOOOOO Vì Vì G Vì 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 Guì Guì Vi